Grande successo anche ad Unicam per Unistem Day, l'iniziativa dedicata alla ricerca sulle cellule staminali. Ecco il nuovo progetto di ricerca Unicam. Unicam ha ospitato il vicepresidente della Corte Costituzionale, Franco Modugno. Alvia il laboratorio multidisciplinare su guerra, pace, politica, diritto. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Unicam News. Vediamo allora il primo servizio. Ancora un successo per l'Unistem Day, la giornata di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali, alla quale quest'anno l'Università di Camerino ha nuovamente aderito con entusiasmo, con un evento dal titolo, l'infinito viaggio della ricerca scientifica, moltissime le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, provenienti da tutta la regione Marche, che hanno gremito l'aula A del polo di geologia. I lavori sono stati aperti dai saluti del Rettore Graziano Leoni, dalla Delegata all'Orientamento Isolina Marota e dal Professore Daniele Tommassoni della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, referente Unicam per Unisystem. Si è poi proseguito con un momento di dibattito con il contributo di ricercatrici e ricercatori Unicam. La parola è passata poi alle studentesse e agli studenti, sia di Unicam che delle scuole superiori, che hanno presentato i progetti realizzati sulle cellule staminali. La mattinata si è conclusa con le premiazioni del concorso Unistem Day 2024. Sviluppare nuovi materiali contenenti terre rare e metalli molto utilizzati nell'industria tecnologica, unitamente al principio naturale della curcumina, che presenta importanti proprietà curative per consentire di ottenere terapie antitumorali mirate e personalizzate. E' questo l'obiettivo del progetto di ricerca, coordinato dal Professor Riccardo Pettinari, della sezione di chimica della Scuola di Scienze del Farmaco e del Prodotti della Salute, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale nell'ambito dei PRIN PNRR. Il progetto di ricerca è in collaborazione con l'Università di Udine e l'Università di Verona. Il gruppo di ricerca che coordinano da alcuni anni è impegnato nello sviluppo di nuovi farmaci a base metallica contenenti principi attivi naturali. Il progetto tende a sviluppare nuovi materiali contenenti terre rare, lantanidi, in particolare composti di europio, samario e interbio, contenenti il principio naturale della curcumina. I composti che intendiamo sviluppare vengono chiamati teranostici. Si intendono composti che possono essere impiegati contemporaneamente per la diagnosi e la cura delle patologie, volti quindi a trasformare la medicina convenzionale, non specifica, in una medicina di precisione o personalizzata. In questo progetto focalizzeremo la nostra attenzione verso uno specifico tumore del fegato e il carcinoma epatocellulare. Questi composti che andremo a sviluppare agiranno come delle sonde capaci di rilevare e localizzare le cellule tumorali, danneggiandole mediante fotoirradiazione nel vicino infrarosso. Questa radiazione risulta meno pericolosa rispetto alla normale radiazione impiegata nella terapia fotodinamica ed inoltre è capace anche di penetrare più a fondo i tessuti umani. Il funzionamento di questa radiazione meno energetica potrà avvenire grazie alle specifiche proprietà luminescenti di europio, samario e interbio combinate con le proprietà cromofore della curcumina. Quindi la curcumina è una sostanza naturale che viene estratta dalla radice della pianta curcuma longa. Questa molecola viene utilizzata come antitumorale, come antimicrobico e anche come antiossidante. Tuttavia ha un problema di biodisponibilità. Il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato un approccio differente dalle altre tecniche che è quello di utilizzare la curcumina nella preparazione di complessi metallici, complessare la curcumina. Questi complessi della curcumina chiaramente contengono il principio attivo, la molecola curcumina, ma poi hanno delle proprietà molto differenti rispetto alla curcumina libera. L'Università di Camerino ha ospitato nei giorni scorsi il professor Franco Modugno, vicepresidente della Corte Costituzionale, che ha tenuto un alexio magistralis sulla teoria dell'interpretazione di Emilio Betti. L'incontro organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza è stato aperto dai saluti del rettore Graziano Leoni, dal direttore della scuola Rocco Favale, dalla coordinatrice del dottorato Illegal and Social Science Carlotta Latini e dalla docente unica Tatiana Guarniera. Per tante cose che mi ricorda questa università e innanzitutto proprio per la memoria di due miei grandissimi maestri, il professor Betti che in questa occasione abbiamo ricordato e anche il professor Esposito, Carlo Esposito, che pure in qualche modo è legato alla città. E' importante perché accennavo durante la relazione che ho ottenuto che l'interpretazione conforme che è un istituto che alla Corte si pratica e anche avversato da altri, l'interpretazione conforme che evita che intanto è diffusa tra tutti gli operatori giuridici, anche addirittura il cittadino che può interpretare, applicare, conseguire la legge ma l'interpretandolo in modo conforme e questo evita problemi di costituzionalità naturalmente. Ma questo è un canone che, ripeto, alcuni avversano perché ritengono che poi sia troppo restrittivo delle questioni che meglio andrebbero risolte alla Porte. Per altri invece è necessario perché tutti siamo legati alla Costituzione quindi se si può interpretare una legge in modo conforme è tanto meglio. La legge poi non è una monade isolata ma va interpretata insieme alle altre leggi perché è quella che abbiamo detto il canone dell'interpretazione globale, come si dice. Ha preso il via nei giorni scorsi il laboratorio multidisciplinare su guerra, pace e politica, diritto promosso dalla Scuola di Giurisprudenza con il coordinamento dei professori Luca Baccelli, Francesco Maria Tedesco, Federico Olivieri e rivolto alle studentesse, agli studenti dell'Ateneo. Il laboratorio offre uno spazio di discussione multidisciplinare, di taglio politico-giuridico sui temi della pace e della guerra. Il filo conduttore degli incontri consiste nella questione se e come il diritto possa efficacemente prevenire, regolare e risolvere i conflitti armati, offrendo strumenti utili al controllo degli armamenti, al mantenimento della pace, alla garanzia dei diritti fondamentali. La questione sarà declinata nel corso degli incontri che si concluderanno il 16 maggio attraverso prospettive di filosofia del diritto e della politica, di diritto costituzionale, europeo e internazionale, di informatica giuridica. Ampio spazio sarà dedicato anche all'analisi di norme, prassi e casi concreti. Per essere sempre aggiornati sulle attività Unicam vi invito a consultare il sito web di Ateneo www.unicam.it, nonché la pagina Facebook istituzionale Unicam Università degli Studi di Camerino e il numero verde 800 05 400 0. È tutto per questa puntata di Unicam News. Appuntamento naturalmente alla prossima edizione. Grazie a tutti.